benvenuti dal carotti pillole di benessere oggi pilates però potremmo definirlo come un total body pilates perché andiamo a muovere un pochino tutto il nostro corpo sarà una sequenza abbastanza intensa e soprattutto con pochissime pause quindi iniziamo subito allora partiamo in piedi vale sempre o il materassino o il tappeto di casa allora vi mettete in piedi con le gambe larghe come il bacino iniziamo a prendere un bel respiro a premessa ricordatevi inspiro restucchio l'ombelico parete forte buttando fuori l'aria trattenete sempre forte l'ombelico vicino alla colonna inspira buttando fuori l'aria immagina di crescere di creare quasi un'onda di tuffati a terra arrivi a terra e inizi a procedere con il tuo braccio ti trovo in posizione mantieni forte la parete addominale due respiri uno poi lentamente ispirando torni indietro e pieghi le tue gambe così faciliti la salita torni su srotoli 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 e di nuovo cresci butta fuori mantieni la posizione l'addome forte due respiri uno poi un bel respiro richiama piega le tue gambe torna vieni su srotola 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 e di nuovo respira butta fuori mantieni la posizione parete addominale forte le ciappette anche belle attive due respiri uno un bel respiro richiama piega le tue gambe vieni su srotola 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 torna butta fuori vai 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 mantieni la posizione allora cerca di mantenere la posizione di avere le gambe un pochino più larghe rispetto all'esercizio prima i piedi ben puntati inspirando ti spingi ed espirando sono le braccia che spingono i spingi ed espirando i butta fuori i s s s bravissimi torna piega 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 linha piedi da srotola smartone srotola torna su le mettiamo insieme il muta fuori mantieni la posizione parretta addominale forte e pancino forte due respiri Uno, poi torno, pieghi, vieni su, srotoli, 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 torna, inspira, metto fuori, mantieni la posizione e adesso lavoro, inspiro, inspiro, ne fai cinque, inspira, espira, inspira, 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 l'ultimo. Espira, espira, piega, torna, bravo, cresci e relax, bravo, direi che siamo abbastanza caldi, adesso lentamente da questa posizione, di nuovo cresciamo, buttiamo fuori là e andiamo giù, ma lentamente, questa volta potete anche piano piano piegare, ok, manteniamo la nostra posizione un attimo, appoggiamo, Arrondiamo, bravi, cercate di tenere i vostri polsi sotto le vostre spalle, estendete bene, bene, bene le braccia, cercate di ruotare i gomiti verso l'interno, manteniamo la posizione, e adesso lentamente, prendiamo un bel respiro, inalchiamo la schiena, buttiamo fuori l'aria, un bel respiro, buttiamo fuori, un bel respiro, bravi, stendiamo, stendiamo, manteniamo la posizione, e adesso, inaspirando, solleviamo due volte, e giù, cambia gamba, in, 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 e torna giù, molto bene, rilassati un attimo, allungati, vado una latetta tra le braccia, poi lentamente tuoi, e ti vai a sedere, e stendiamo la colonna, teniamo le nostre mani sulle ginocchia, iniziamo lentamente a rullare su una colonna, la massaggiamo, la massaggiamo sempre, e adesso lentamente, tornando, cerchiamo di aprire il petto, così riusciamo a mantenere l'equilibrio, bravi, sollevate, mantenete la posizione, aprite il petto, allontanate le spalle dalle orecchie, tre respiri, due respiri, uno, poi lentamente provate a tenere la posizione, buttando fuori l'aria scendete, e mentre scendete, portate una gamba al petto, allora, mantenete la testa sollevata, cercate di tirare il ginocchio verso la spalla corrispondente, inspiro, e l'altro si stende, butta fuori, e poi, inspira, ispira, 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 mantieni la gamba sollevata, distesa, leggermente extradotata, inspira, sale, ispira, scende, sale, scende, sale, scende, sale, scende, un bel respiro, butta fuori, cambia, mantieni la posizione, extra ruota la gamba distesa, questa gamba ispira, sale, ispira, scende, e sale, e scende, e sale, e scende, e sale, e scende, e sale, e scende, e mantieni la posizione, richiamala, giù, bravissimi, adesso, lentamente, in questa posizione, stendiamo le gambe al soffitto, allora, proviamo a stendere, a tenere i taloni vicini, le punte per fuori, se non ce la facciamo a tenere le distese, pieghiamola un pochino, però, manteniamo il più disteso possibile le nostre gambe, le mani dietro, salviamo il capo, appoggiamo pesantemente la testa alle mani, per avere il collo leggero, butta fuori l'aria, inspira, ispira, 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 mantieni la posizione, libera un braccio, libera l'altro, preparati per fare l'angue, in, due, tre, qua, ci, es, due, tre, qua, ci, in, due, tre, qua, ci, es, due, tre, qua, ci, in, due, tre, qua, ci, es, due, tre, qua, ci, in, due, tre, qua, ci, es, due, tre, qua, ci, una gamba scende e in, due, tre, qua, ci, es, due, tre, qua, ci, in, due, tre, qua, ci, es, due, tre, qua, ci, Tutte e due su. E, in, due, tre, quattro. C, S, due, tre, quattro. Stop! Questi sono sempre faticosissime. Manteniamo la posizione, dondoliamo un pochino. Bravi. Quindi, dondoliamo, ruotiamo, in un senso, nell'altro. Adesso, inspirando, tirate le gambe a voi, buttando fuori l'aria e sollevate il capo. Mantenete la posizione, respira, butta fuori i stendi, divertire. Ok, double leg stretch. In, S, in, S, in, S. Mantenete la posizione, piedi vicini, talloni vicini, punte per fuori. Due respiri. Uno. E relax. Relax. Bene. Appoggiamo. Solleviamoci un attimo. Mettiamoci in appoggio sopra i gomiti. Allora, manteniamo la nostra posizione. Cerchiamo di avere i gomiti belli appoggiati, di avere le spalle aperte e il capo abbandonato. Portiamo veniva dal petto. Semplicemente, dondoliamo un pochino. Bravi. Scaldiamo. E adesso, lentamente, iniziamo a prepararci per il nostro kankan. Inspiro. Al terzo tempo. Inspiro unico. Due, tre. E inspira. E ancora una. E dall'altra parte. Molto bene. Portiamo le gambe su. E adesso che abbiamo scaldato un pochino, manteniamo sempre l'appoggio sui gomiti, buttando fuori l'aria. Cerchiamo. E ancora. Dallo stesso lato, eh. Ma che vi vedo che mentre fate il cerchio, tirate fuori la lingua, eh. Tenetela dentro quella lingua. E ancora. E adesso lo facciamo dall'altra parte. Uno. Buttala fuori tutta. Buttala fuori tutta. Buttala fuori tutta. Buttala fuori tutta. E rilassati. Ok. Adesso le gambe scendono. Andiamo giù anche noi. Portiamo le mani dietro. E ci troviamo laterali. Allora, in questa posizione, provate a sollevare la parte bassa delle gambe. Quindi i piedi. Mantenete le ginocchia appoggiate. Mantenete le mani dietro alla testa. Con il petto bello aperto, quindi il gomito aperto per dietro. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Timi sempre i piedi vicini. Quando gli apri, cerca di immaginare di schiacciare. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Mantieni la posizione. Libera il braccio. Lo porti a terra. Ma non barare. Non tenerti forte. Tienelo solo d'appoggio. Apri bene la spalla. Stendi le tue gambe con i piedi lunghi. Inspira. 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 Mantieni la posizione. Se parla leggermente, tieni sempre i piedi lunghi. Mentre inspiri, una gamba va avanti, l'altra va dietro. E di nuovo. Ancora una. E bravi. L'altro lato. Manteniamo la posizione. Ricordatevi, le mani dietro. Il gomito è bello aperto. La parte finale. Sollevata. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Mantieni. Appoggia. Stendi forte con i piedi lunghi. Espira. Espira. In. 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 Bravissimi. Se parla leggermente, inspira e torna. Inspira. 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 E. Giù. Bravi. Ci mettiamo a terra. Campe larghi come il bacino. Mani belle appoggiate. Gomiti piuttosto vicino al petto. Lentamente, ispirando, saliamo un pochino. A poco. Non spingiate forte. Facciamo la posizione per chi conosce baby piccolo yoga. Manteniamo la posizione. Scusate, baby o piccolo serpente, cobra. Manteniamo la posizione. Adesso lentamente scendiamo. Bravi. Ci spingiamo. Ci mettiamo in posizione. Abbandoniamo la testa, il materassino. Purtiamo le braccia dietro. E facciamo cadere le spalle verso il materasso. Due respiri. Uno. E terminiamo lentamente. Bravi. Vi aspetto la prossima volta. Ciao a tutti.